buongiorno benvenuti lezione numero 41 oggi continuiamo il discorso sui cammini minimi che ricordo essere un argomento molto importante non solo di questo corso ma in generale anche insomma per la vostra carriera per i vostri colloqui anzi proprio curiosando tra youtube ci sono degli esempi di colloqui presso società importanti come ibm come come google soprattutto come facebook pure capita spesso insomma di trovare problemi in cui si chiede di modellare la soluzione attraverso un algoritmo sui grafi ecco quindi sono cose importanti anche per quello abbiamo discusso l'ultima volta uno dei primi algoritmi per i cammini minimi ricordiamo che i cammini minimi servono per applicazioni come navigatori satellitari rete di calcolatori altri problemi di ottimizzazione ovvero dato un grafo orientato e pesato quindi in cui archi hanno i due pesi vogliamo trovare tutti i cammini più brevi da una sorgente verso tutte le possibili destinazioni da una sorgente verso una specifica destinazione o da tutte le sorgenti verso tutte le destinazioni questi sono praticamente tutti i propri possibili cammini minimi tra tutte le coppie di grafi c'è una cosa che non vi ho detto che però oggi possiamo sottolineare ovvero che i problemi di calcolo di cammini minimi in realtà sono soltanto di due tipi perché perché ci sono quelli tra tutte le coppie e vabbè dove si usano per esempio nel pacman io mi precalcolo tutti i cammini minimi o proprio tutti i possibili tra tutte le possibili coppie sorgente di destinazione e vabbè quello è un utilizzo pratico di esempio cammini minimi e sorgente singola significa che si fissa una sorgente e si calcono le distanze da quella sorgente verso tutti gli altri vertici ok e sono praticamente tutti gli algoritmi che vediamo in questo corso quindi sembrerebbe che manchi una categoria che forse la più importante ovvero ma come calcolo un cammino minimo quello da una sorgente ad una destinazione beh intanto eh abbiamo discusso eh l'altro ieri l'algoritmo che a partire dal vettore di distanze eh calcola il cammino minimo eh a partire dal vettore o dalle matrici delle distanze dipende se sono queste distanze tra tutte le coppie tra una sorgente e due la destinazione eh calcola il cammino minimo da uno specifico nodo sorgente ad uno specifico nodo destinazione però questo in realtà è un algoritmo di utilità eh quello che ha fatto già il lavoro è l'algoritmo che ha tirato fuori questo eh matrice o vettore delle distanze perché dico matrice o vettore perché tanto a noi ci interessano le distanze a partire da x sempre di x u dove u è variabile ma x è fisso viene calcolato anche x qua quindi in questo algoritmo basterebbe il solo vettore delle distanze eh come mai non c'è un algoritmo eh che calcola eh senza dover calcolare le distanze da una sorgente a tutte le destinazioni eh appunto direttamente il percorso più breve da una sorgente ad una destinazione dico diversamente se stiamo implementando il navigatore satellitare e vogliamo calcolare la distanza più breve eh nel percorso stradale da qui a Roma in un certo indirizzo abbiamo l'algoritmo che ce lo dà per carità ce l'abbiamo però questo algoritmo ha bisogno di un vettore almeno di un vettore delle distanze che è un vettore tra delle distanze tra quella sorgente tutte le destinazioni del grafo tutte tutte quindi eh beh se siamo in una mappa stradale stiamo parlando di un vettorone qualcosa di veramente gigantesco e in effetti alla fine di questo modulo c'è una ricapitolazione che però adesso eh preme mostrarvi da subito che vi fa capire in un solo quadro riassuntivo che non c'è una soluzione per i grafici con cicli negativi ma questo abbiamo già detto ma soprattutto nel caso di cammini minimi cioè io vorrei calcolare solo e solamente il cammino minimo da uno nodo ad un altro senza dover calcolare anche cose che non mi servono ebbene non c'è nessun algoritmo noto che nel tentare di risolvere questo problema risolvi involontariamente anche il problema della sorgente singola cioè da un nodo verso tutti gli altri e in effetti se andiamo a riprendere ecco perché ho voluto fare questa parentesi se andiamo a riprendere Bellman Ford io ho volutamente ignorato un aspetto che però adesso su cui voglio insistere cioè il Bellman Ford noi abbiamo detto che eh se conoscessimo il cammino minimo da una sorgente ad una destinazione eh potremmo eh eseguire i rilassamenti nell'ordine dei vertici di questo cammino minimo e questi rilassamenti sarebbero tali appunto da essere lungo un cammino ottimo pertanto questi rilassamenti sono i rilassamenti giusti e queste distanze che inizialmente sono stime per eccesso in realtà sono già da subito delle distanze finali le distanze vere quelle dei cammini minimi la distanza è tale quando è la misura del cammino minimo ma siccome questo non ce l'abbiamo abbiamo detto che eh facciamo un approccio un po' eh brute force ovvero eh facciamo n passate di tutti i rilassamenti degli archi che significa n passate di tutti i rilassamenti degli archi che se questi sono i k rilassamenti giusti cioè quelli che ci fanno trasformare i nostri di grandi in di piccole e siccome vanno fatti in questo ordine specifico allora noi cosa facciamo? Facciamo una passata rilassando tutti gli archi se rilassiamo tutti gli archi prima o poi includeremo sicuramente il rilassamento numero uno perché il rilassamento numero uno sarà DSS zero per definizione sarà sempre zero più il rilassamento quindi appunto l'arco SV1 dove V1 è il primo vertice del nostro cammino minimo ignoto ma se noi rilassiamo tutti gli archi prima o poi lo becchiamo quest'arco qua quindi prima o poi questo DSV1 diventerà pari a D minuscolo SV1 perché avremmo beccato l'arco giusto questo nella prima passata quindi nella prima passata noi siamo sicuri che prima o poi passo uno lo becchiamo beh allora nella seconda passata siamo sicuri che prima o poi il rilassamento giusto numero due lo becchiamo perché prima o poi beccheremo un arco giusto e questa DSV1 per costruzione della passata precedente a sua volta è già di minuscolo quindi questo è già di minuscolo questo è uno dei tanti archi e prima o poi lo becchiamo l'arco giusto che sta nel cammino minimo di conseguenza prima o poi nella seconda passata di tutti i rilassamenti faremo sì che questo di grande diventi di piccolo e così via per costruzione questo adesso diventa di piccolo rilassiamo tutti gli archi questo diventa di piccolo per costruzione siccome un cammino minimo non può essere più lungo del numero di nodi del grafo allora sicuramente in n passate includeremo anche questi k rilassamenti nell'ordine ideale pertanto il nostro algoritmo è fai n passate di cosa di rilassamenti di tutti gli archi che ci sono nel grafo quindi la complessità è banalmente n il ciclo esterno m il ciclo interno o di 1 quindi o di m per n ora come si ricollega questo a quello che ho detto prima all'inizio di questa lezione c'è perché noi involontariamente non siamo riusciti a risolvere cioè siamo partiti dal problema di partire da s e arrivare a vk che è la nostra destinazione ma nel farlo abbiamo involontariamente fatto rilassamenti non solo per il vertice vk cioè non abbiamo soltanto trovato la distanza tra s e vk la di piccolo ma nel mentre siccome abbiamo fatto n passate avremo sicuramente incluso anche le distanze quelle vere finali con la d piccola di tutti gli altri vertici del grafo quindi praticamente noi volevamo solo calcolare la d piccolo s vk ma con questo approccio esaustivo involontariamente o no comunque l'abbiamo fatto abbiamo calcolato di fatto le distanze tra la sorgente e tutti i vertici del grafo perché abbiamo fatto n passate ok quindi queste ne passate è come se noi avessimo calcolato involontariamente i cammini minimi da tutti eh da s verso tutti gli altri nodi del grafo purtroppo l'abbiamo fatto era l'unico modo per poter calcolare il nostro cammino minimo di interesse ed è proprio quello che vi sto dicendo è una cosa questa che accade eh non solo in questo algoritmo di belman ford ma in realtà in tutti gli algoritmi addirittura si può dimostrare proprio matematicamente che anche se noi volessimo risolvere il problema del singolo cammino minimo quindi della singola distanza tra una sorgente ed una destinazione nel mettere sul tavolo questo algoritmo nel rifletterci nello sbatterci la testa ci riusciamo sì però involontariamente risolviamo il problema più generale del cammino a singola sorgente quindi da una sorgente a tutte le destinazioni e a questo punto potrebbe sorgere una domanda eh giustamente eh tra di voi ma come ci sta dicendo una cosa che quindi eh ha un impatto molto grande nella vita di tutti i giorni nei 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 navigatori nei dispositivi che utilizziamo nella rete internet cioè ci sta dicendo che il nostro navigatore per risolvere un problemino risolve un problemone e ammazza che problemone cioè le distanze da qui Cassino il mio indirizzo dove mi trovo in tutti i nodi quindi tutti gli ingroci tutti i numeri civici di tutte le strade di tutte le regioni di tutte le nazioni del nostro continente dove c'è una rete stradale ma secondo voi davvero si fa una cosa del genere ovviamente no quindi eh voglio dirvi una cosa per avere già da subito un quadro generale altrimenti poi questa cosa può sfuggire che gli algoritmi che noi stiamo vedendo Bellman Ford Dijkstra ordinamento topologico di fatto risolvono anche il problema più grande e quindi hanno una complessità giocoforza elevata molto elevata cioè guardate o di m per n ragioniamoci un attimo se stiamo in una mappa stradale del continente europeo quanto è grosso sto 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 elemento questo questo è questo numero è enorme ragazzi stiamo dicendo il numero di tutte le strade che connettono due nodi quindi anche che ne so da qui al da qui al numero civico eh accanto è un pezzo di strada è un arco quello è considerato un arco secondo voi quanti archi ci sono e quanti nodi quanti numeri civici ci sono in tutta Europa ma ragazzi e questi numeri vanno moltiplicati il numero degli archi per numero dei nodi ragazzi è un numero talmente grande che che no non credo proprio che Bellman Ford vi dia una risposta in tempi brevi figurati un algoritmo su un navigatore che insomma un oggetto con un suo una sua scheda embedded ma non ha certo ma non avrebbe nemmeno un super computer la possibilità di calcolare questo questi cammini minimi e allora uno dice vabbè però il professore ci ha detto che ci sono degli algoritmi più veloci di Bellman Ford se per esempio non ci sono cicli negativi da extra in effetti è molto più veloce ma molto comunque c'è m più n logaritmo in base di dn comunque c'è m e già solo m quanti archi ci sono in tutta la mappa stradale sono tantissimi o in tutta la rete internet sono ovviamente cose intrattabili allora dove voglio arrivare voglio arrivare nel dirvi che questi algoritmi sono gli algoritmi ottimi che significa ottimi che risolvono il problema dei cammini minimi in maniera ottimale cioè il risultato che vi danno meglio di quello non c'è è davvero il cammino minimo certo è il vettore dei cammini minimi dalla sorgente a tutte le destinazioni perché abbiamo detto che non siamo in grado di calcolare da a a b ma solo da a a tutti gli altri vabbè comunque questa soluzione include anche quella cercata e include l'ottimo quindi è la soluzione migliore invece non so se avete notato ma nella realtà non sempre il navigatore trova la migliore soluzione magari uno sulla propria esperienza sulla propria pelle si accorge insomma non era proprio la strada migliore forse si poteva fare di meglio e questa cosa avviene anche nelle reti di calcolatori a volte anche lì uno dice si poteva fare di meglio il problema che per fare di meglio serviva l'ottimo e per l'ottimo servivano algoritmi con una complessità di fatto intrattabile nel caso reale ovviamente non in tutti i casi reali e che ne so se siamo in una rete di calcolatori locale beh benvenga usare da extra perché tanto la rete è piccola quindi questa complessità m più n log n è davvero e comunque non dico trascurabile ma sicuramente fattibile in effetti è così che funziona internet internet non è una mega rete in cui ogni nodo conosce tutti i nodi di tutta la rete globale sarebbe un grafo gigantesco intrattabile non solo con da extra ma con qualunque altro algoritmo in realtà le reti sono divisi in sottorete a loro volte in sottorete quindi c'è una gerarchia un concetto di località che sicuramente aiuta da extra in effetti da extra è davvero utilizzato proprio da extra senza nessuna modifica nelle reti di calcolatori e cosa succede invece nelle reti stradali e perché nelle reti stradali magari la destinazione sta dall'altra parte d'europa quindi ragionare per distretti locali per gerarchia sulla base di cosa come fate a definire le gerarchie nelle reti calcolatori più facile definire questa cosa negli reti stradali no e in generale per esempio nel cubo di rubic in base a cosa definite una una componente locale delle configurazioni del cubo di rubic anche lì c'è lo stesso problema il numero di nodi nel cubo di rubic cioè numero di possibili configurazioni credo che sia un numero davvero spaventoso rubic number possible configurations dovrebbe essere 43 quintilioni vabbè è un numero molto grande in un cubo 3 per 3 ovviamente immaginate cubi più grandi ci sono cubi 5 per 5 7 per 7 questi sono i nodi poi ci sono gli archi quindi quindi no è un numero molto grande anche lì voglio arrivare a dirvi che l'algoritmo di da extra è effettivamente l'algoritmo che a meno che ci siano degli archi di costo negativo mai è molto raro è probabilmente il migliore questo ovviamente lo è lo supera ma solo se non ci sono cicli e non è un caso reale quindi nei casi reali diciamo che da extra è l'hello world dei cammini minimi cioè è il l'algoritmo principe nei cammini minimi allora cosa si usa davvero nei nei casi più difficili dove il grafo è troppo grande quindi devo risolvere il cubo di rubic o devo trovare la la strada più breve da qui a roma o un'altra un'altra destinazione si usa ragazzi una variante di da extra forse quando arriveremo ad extra sarà meglio rispetto a se sto anticipando troppo però mi piace già dirvi che quello che stiamo vedendo in questa parte del corso diciamo non dico teorico brutto dire teorico non pratico però all'atto pratico bisogna porsi la domanda ma il grafo è troppo grande se il grafo è troppo grande non possiamo applicare questi algoritmi dobbiamo applicare delle loro versioni tra virgolette empiriche cioè ci sono delle versioni da extra ha una versione empirica che si chiama a star è basato su da extra quindi chi ha studiato da extra lo riconosce però c'è un punto in cui si dice invece di cercare l'ottimo cerca il subottimo e quindi di conseguenza il nostro navigatore satellitare non sta davvero davvero trovando il cammino minimo probabilmente forse ci riesce pure anche un po per fortuna o anche perché fatto bene ma non ci riesce sempre non è garantito quindi nella realtà di tutti i giorni questi algoritmi che rappresentano l'ottimo teorico purtroppo devono cedere il passo a delle loro versioni semplificate delle loro versioni subottime che non trovano l'ottimo trovano qualcosa di vicino magari all'ottimo però lo trovano in tempi molto più più brevi quindi domanda da colloquio di google il navigatore satellitare che algoritmo usa da extra no bocciato non usa da extra usa una versione ispirata che ha di base l'algoritmo di da extra ma comunque ha una semplificazione notevole nella scelta degli acchi che poi vedremo discuteremo con da extra noi non facciamo queste versioni semplificate in questo corso queste sono cose di cui si discute nel corso di intelligenza artificiale nella magistrale che c'è un corso di intelligenza artificiale un corso di machine deep learning un corso di elaborazione di immagini e riconoscimento sempre a che fare con intelligenza artificiale quindi abbiamo più o meno tre corsi che ruotano attorno a queste keyword dell'intelligenza artificiale e tra questi tre corsi si finalizza poi quello che io vi accenno in questo corso cioè questa è la teoria però nella pratica uno davvero deve trovare la strada più breve da qui a milano o la strada più breve da questa configurazione del cubo di rubic alla soluzione quindi volevo lanciare questo warning generale prima ancora di affrontare questi tre algoritmi ok bene torniamo al nostro belman ford perché c'è altro da dire sono delle slide che ho fatto praticamente stanotte quindi mi dispiace non avervele inviate però comunque stanno su drive tutte le modifiche che faccio sono aggiornate su drive quindi intanto assicuriamoci di aver capito bene belman ford dobbiamo rilassare tutti gli archi perenne passate perché perché se lo facciamo una volta siamo sicuri di includere il primo passo di rilassamento che ci porta al primo vertice del cammino minimo poi un'altra passata il secondo passo eccetera il cammino minimo massimo k può essere lungo quindi massimo n e quindi n passate abbiamo anche capito spero almeno vi ho messo l'idea che purtroppo nel fare questo stiamo calcolando le distanze non solo tra esse e la destinazione ma tra tutte praticamente i nodi del grafo quindi e quindi vabbè amen ormai abbiamo detto che questo è quello che accade è inevitabile cioè non c'è un modo sfido voi ma ovviamente ci hanno pensato anche i matematici esperti informatici su questo hanno pensato come posso modificare questi algoritmi per trovare il cammino minimo ottimo tra una sorgente ed una destinazione non ci sono riusciti e hanno dimostrato che proprio non ci si può riuscire quindi inutile proprio provarci bene quindi vabbè questo è l'algoritmo di ben manford vediamo un'applicazione reale un'applicazione reale che un pochettino esula dal dall'obiettivo più generale di trovare i cammini minimi cioè voglio darvi uno strumento per tra virgolette diventare ricchi cioè ragazzi quando magari ci sono dei film in cui che ne so limitless insomma un po un po cavolate in cui insomma ci sta una persona una una specie di genio hacker dell'informatica che sa tutto di tutto e in grado anche ovviamente di sfruttare le sue conoscenze per per fare soldi ok ecco questo è un modo concreto davvero concreto infatti fino a qualche decennio fa queste cose accadevano molto più di frequente rispetto oggi e venivano ovviamente ostacolate oggi ci sono dei sistemi di sicurezza che rendono molto più difficile fare quello che di cui vi sto parlando vi voglio parlare dell'arbitraggio non so se qualcuno di voi conosce questo termine si parla di di borse di mercati finanziari di mercati valutari quindi di economia e finanza arbitraggio è una parola che a volte si sente assieme ad altre parole un po cattive tipo speculazione ecco l'arbitraggio è un'operazione che consiste nel acquistare un bene un bene può essere una valuta una un'azione un pacchetto azionario una qualunque comunque bene in un mercato finanziario e poi rivenderlo in un altro mercato quindi mi sposto da un mercato ad un altro compro per esempio che ne so un bene nella borsa di milano lo rivendo nella borsa di 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 new york di wall street oppure compro una valuta eh italiana o italiana una valuta europea eh per esempio in questo caso la rivendo poi sul mercato valutario eh della Gran Bretagna poi eh comprata la valuta eh sterline quindi stiamo parlando di sterline lo rivendo sul mercato americano quindi compro dollari e poi rivendo i dollari sul mercato europeo e compro gli euro quindi sono tornato appunto di partenza ora però nell'arbitraggio questi scambi eh sfruttano delle differenze più che differenze direi delle asimmetrie di prezzo lo vedremo adesso nell'esempio seguente al fine di ottenere un profitto cioè lo scopo è quello di eh fare questi scambi e tornare un po' al punto di partenza ma tornarci con un profitto eh sembra una magia ma in realtà sono cose che sono davvero successe e ancora succedono più raramente rispetto al passato perché adesso ci sono dei sistemi di sicurezza che si basano proprio sulla eh tecnologia che stiamo per per discutere quindi stiamo per discutere una tecnologia usata in passato da non saprei chiamarli non dico broker finanziari comunque persone che beh forse broker è il termine esatto cioè persone il cui scopo è quello di eh sfruttare i meccanismi del mercato finanziario per trarne un vantaggio eh meccanismi un po' più subdoli non meccanismi del tipo vabbè eh oggi investo sulla sulla Apple eh fra un anno ritiro vendo e ho guadagnato quello non è un meccanismo subdolo eh hai fatto un investimento e poi hai ritirato il il tuo profitto se c'è questo no l'arbitraggio la speculazione sono dei meccanismi diciamo un po' l'arbitraggio è sicuramente legale quindi non andate in galera se lo fate eh però ovviamente scoraggiato e è ostacolato che qualcuno ci perde ovviamente in tutto questo se noi ci guadagniamo qualcun altro e qualcun altro sono i mercati appunto ci perdono facciamo un esempio pratico eh per fare un esempio pratico ho scelto eh i cambi di valuta sono di qualche mese fa eh presi da sole 24 ore tra euro eh sterlina e dollaro ho scelto volutamente ehm un momento in cui cioè io ho fatto un po' di ricerche ci sono ci sono dei momenti in cui ehm si verificano delle situazioni che possono essere sfruttate per l'arbitraggio eh quindi uno magari dice caspita quindi il professore ha trovato un momento in cui poteva lui diventare ricco eh in realtà la storia non è tutta qui vi spiegherò poi quali sono gli ostacoli per fare davvero in concreto l'arbitraggio però per adesso noi facciamo la semplificazione che tipo di semplificazione facciamo ovvero quella che non ci sono costi fissi di cambi di valuta e quello è il trucco nel momento in cui ci sono anche i costi fissi e i costi fissi vengono ehm vengono ehm calcolati dai mercati da chi si occupa di questi meccanismi di sicurezza per evitare l'arbitraggio beh allora mi hanno fregato perché oltre a considerare i cambi devo considerare anche i costi fissi dei cambi e i costi fissi dei cambi sono messi apposta per evitare l'arbitraggio cioè per far sì che nei nostri calcoli non avvenga quello che adesso vi sto mostrando che può avvenire quindi nella realtà è molto difficile fare l'arbitraggio oggi 20 anni fa 30 anni fa era invece sicuramente più più facile più possibile quindi vabbè se ci riuscite insomma mettete create un software che si installa sul sulla borsa sui mercati valutari insomma vedete che potete fare però vi ripeto sarà molto difficile comunque sfruttare questa cosa allora che può succedere intanto abbiamo bisogno di una modellazione matematica per poter tirare fuori dei numeri delle somme ok del delle dei risultati quantitativi allora abbiamo un grafo in cui i nodi v i vertici sono le valute euro sterlina sterlina britannica e dollaro americano gli archi sono orientati e rappresentano i cambi da una valuta ad un'altra perché ci stanno doppi archi perché esiste un cambio euro sterlina e un altro cambio sterlina euro cioè i tassi di cambio non sono necessariamente simmetrici ok in particolare i tassi di cambio tipicamente hanno no non sono compresi tra 0 1 scusate però sono comunque appartenenti ovviamente a r sono tassi di cambio reali e se è minore di 1 significa che stiamo scambiando un euro con 0,85 sterline in questo caso se è maggiore di 1 significa che è più forte la moneta quindi la sterlina adesso in questo momento non saprei dire se è davvero più forte non so se qualcuno di voi sa informato su queste cose comunque qualche mese fa era ancora più forte qualche anno fa era molto più forte dell'euro adesso un po di meno da quando c'è stato il brexit e quindi scambio sul mercato una sterlina con 1,17 euro quindi ci guadagno in termini di euro quindi minore di 1 è più debole la moneta maggiore di 1 è più forte vabbè abbiamo capito è un moltiplicatore di quello che avrò in nella moneta di destinazione mi state scrivendo qualcosa che avete scritto 1,11 sterlina ok vabbè ci sono ovviamente delle oscillazioni non è così diverso da questo 1,17 e si è indebolito ulteriormente e beh ci credo insomma non è che la Gran Bretagna sia un esempio ultimamente di potenza insomma da quando c'è stato il brexit e poi anche la gestione del covid va bene e ok quindi eh abbiamo questi tassi di cambio eh praticamente tra tra tutte le coppie di di valute non è detto eh non è detto i mercati valutari non sono necessariamente dei grafi iperconnessi completi dovrei dire nella terminologia di questo corso dei grafi cioè in cui ogni nodo è connesso a tutti gli altri nodi perché una nazione con il suo mercato con la sua valuta può decidere di effettuare scambi solo con alcune altre valute per esempio potrebbe decidere di non considerare delle valute molto molto instabili perché appunto per quello che stiamo per vedere perché quanto più una valuta è instabile e tanto più è difficile implementare poi quei meccanismi di sicurezza che impediscono l'arbitraggio quindi magari una valuta molto ne so non lo so il dollaro canadese non lo so è ipotizzo potrebbero rifiutarsi di fare cambio con quindi di cambiare loro i loro dollari canadesi con che ne so eh penso un paese un po' un po' insomma instabile dell'ASE dell'Africa del Medio Oriente insomma ci siamo capiti ok quindi non è necessariamente un grafo completo ora in questo caso lo è perché perché ovviamente sì stiamo parlando dell'Europa della Gran Bretagna degli Stati Uniti ovviamente loro tra di loro non hanno nessun problema a fare i cambi quindi questo è un grafo completo allora eh definiamo l'arbitraggio quando noi eh ci muoviamo in un ciclo perché dobbiamo tornare a punto di partenza e ci dobbiamo tornare con un guadagno che significa tornarci con un guadagno torniamo con un guadagno se la produttoria dei pesi degli archi in questo ciclo sono maggiore di uno perché significa che io la produttoria di questi pesi corrisponde al tasso di cambio composto da tutti i tassi di cambio che ho attraversato però sono tornato nel punto di partenza se ci sono tornato con un tasso di cambio maggiore di uno come vi dicevo prima significa che ci ho guadagnato cioè se io sono partito da un euro e arrivo a 1,1 euro a 1,1 tassi di cambio per esempio sfruttando questo ciclo per esempio qui 0,85 per 1,31 per 0,91 fa 1,013 me lo sono calcolato ok quindi effettivamente nel grafo a sinistra che è stato preso da sulle 24 ore di di qualche mese fa eh euro sterlina dollaro sterlina teoricamente poteva consentire un arbitraggio perché perché i prodotti il prodotto dei pesi lungo il ciclo è maggiore di uno ma invece fare un'altra strada quindi andare dall'euro al dollaro alla sterlina e poi di nuovo all'euro non è un arbitraggio in quel caso la produttoria dei pesi 1,09 0,76 0,1 e 1,17 mi dà 0,969 quindi ci perdo che è tra l'altro la cosa più più normale cioè anzi è molto probabile se non sicuro al 99,9 per cento che voi qualunque ciclo fate sul mercato valutario o anche in altri mercati finanziari probabilmente nella stragrande maggioranza dei casi avete un tasso minore di 1 quindi ci ci perdete ovviamente quello che vuole il mercato il mercato non vuole che voi fate l'arbitraggio ma ci sono casi situazioni anche temporanee o dovute all'instabilità particolare di quel giorno di quella valuta di quella nazione in cui si possono creare delle situazioni con dei cicli eh di prodotto eh maggiore di uno ora noi però dobbiamo trasformare questo problema quindi trovare cicli il cui prodotto dei pesi è maggiore di uno dobbiamo trasformarlo in un problema che noi sappiamo risolvere noi non sappiamo risolvere per adesso questo problema trova i cicli il cui prodotto dei pesi è maggiore di uno e come lo trovi questi cicli dove sta l'algoritmo per farlo eh sì uno potrebbe pensare ad una visita e però ragazzi di nuovo se facciamo delle degli algoritmi personalizzati il rischio è quello di eh intanto sbagliare perché ci siamo noi mentre gli algoritmi quelli della letteratura sono verificati da decenni funzionano sicuramente e poi potrebbero avere una complessità notevole quindi magari io per trovare l'arbitraggio impiego dieci minuti però in quei dieci minuti eh già la situazione si è normalizzata perché ci sono dei sistemi di sicurezza che impediscono l'arbitraggio quindi voi avete avuto una risposta ma ormai i tassi sono cambiati si sono stabilizzati e quindi vanno fregate eh non potete più fare arbitraggio quindi la risposta istantanea eh o meglio nel minimo tempo possibile ce l'avete se usate un algoritmo eh di quelli che la letteratura a teoria vi dice che sono i migliori possibili ah tra l'altro notate che in questi casi dobbiamo usare algoritmi ottimi perché se ci accontentiamo del subottimo come lo trovate l'arbitraggio? Ora vediamo. Allora intanto eh qualche trucco matematico eh perché dobbiamo trasformare questo problema in un problema a noi noto. Abbiamo questa disequazione quindi insomma eh scusate produttore dei pesi maggiore di uno. Possiamo applicare il logaritmo perché possiamo applicarlo a ambo i lati? Perché è una funzione monotona crescente quindi si può applicare ovviamente una funzione monotona crescente su tutto il dominio si può sempre applicare ad ambo i dati di una disequazione senza alterare il significato di quella disequazione. Pertanto avremo questa nuova disequazione in cui ovviamente avremo i pesi dei avremo i logaritmi dei pesi e poi avremo il logaritmo di uno che ovviamente è zero. A questo punto possiamo moltiplicare per meno uno ma stavolta cambiando il segno della disequazione ottenendo quindi eh la somma dei negativi dei logaritmi e vogliamo che questo sia minore di zero. Che abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che l'arbitraggio si verifica su dei cicli perché questo è ancora un ciclo la cui somma dei pesi certo la somma dei logaritmi con segno meno dei pesi ma comunque possiamo considerare un nuovo grafo in cui a posto dei pesi ci sta il meno logaritmo di quel peso ed esattamente questi sono i nuovi pesi del grafo precedente siamo adesso interessati a cicli la cui somma dei pesi è minore di zero. Questi cicli non li conosciamo si chiamano cicli di costo negativo. Ecco qui che abbiamo visto che una cosa che sembrava assurda ma che ce frega a noi dei cicli di costo negativo tanto non si verificano mai nella realtà. E chi te l'ha detto che non si verificano mai? Abbiamo qui un esempio in cui non solo si verificano ma noi vogliamo proprio trovarli perché se li trovassimo potremmo guadagnarci un pochettino tramite appunto l'arbitraggio. Quindi adesso il problema diventa come trovo cicli di costo negativo? E la risposta vabbè adesso questo scusate c'è un esempio sì ovviamente del grafo a sinistra di nuovo il ciclo euro sterlina dollaro euro sommando i pesi che sono calcolati mediante meno logaritmo dei pesi del grafo precedente sommandole si ottiene meno 0,144 sul percorso rosso e più 0,153 sul percorso nero. Quindi ovviamente abbiamo trovato di nuovo come prima non abbiamo cambiato nulla soltanto trasformato i pesi abbiamo trovato di nuovo un ciclo scusate un arbitraggio però in questo caso è una sommatoria di pesi mentre nel caso precedente era una produttoria di pesi. Quindi adesso questo è un problema per noi più vicino a quello che conosciamo. Quindi adesso il problema è trovare un algoritmo ci serve un algoritmo per trovare cicli di costo negativo. L'idea è quella di riciclare Bellman Ford. Bellman Ford si presta molto bene a trovare cicli di costo negativo. Perché? Perché se il grafo non avesse cicli di costo negativo e noi svolgiamo il Bellman Ford che conosciamo se però provassimo a fare una n più unesima passata. So che vi ho detto prima che non si deve fare ma non si deve fare perché uno sa già che il grafo non ha cicli di costo negativo quindi deve trovare cammini minimi e bastano n passate. Ma se noi non sappiamo a priori anzi vogliamo proprio trovargli cicli di costo negativo se eseguiamo una n più unesima passata e non ci sono cicli di costo negativo non ci saranno rilassamenti aggiuntivi e non si aggiorneranno le distanze. Perché questo ragazzi? Perché quando c'è un ciclo di costo negativo è come se la distanza per andare che ne so anzi la stessa distanza per andare da euro a euro se c'è un ciclo di costo negativo questa distanza verrà sempre decrementata ma proprio sempre. Facendo un ulteriore passo di rilassamento io vedrò che almeno una delle distanze presenti nel mio vettore di distanze verrà decrementata verrà aggiornata. Questo sta avvenendo solo perché c'è un ciclo di costo negativo. Quindi questo è il trucco. Uso Bayman Ford però anziché fermarmi a n faccio dopo dopo un ciclo da io a una n faccio un'ulteriore iterazione n più unesima e in questa iterazione metto un proprio un booleano un flag di tipo appena trovo che c'è un rilassamento quindi un aggiornamento di una distanza dico subito che quello è un grafo con cicli di costo negativo. Vediamo se funziona questa cosa. Allora quindi tentiamo di simulare l'algoritmo di Bayman Ford su questo grafo in figura. Scegliamo come sorgente l'euro quindi vogliamo fare arbitraggio partendo dal nostro mercato, il mercato della moneta europea e abbiamo un vettore di distanze da euro a euro, zero inizialmente, da euro a sterlina infinito inizialmente e a dollaro infinito perché questo ci dice l'inizializzazione del vettore delle distanze. Bene iniziamo. Dobbiamo per ciascuna delle n passate, n è il numero di nodi quindi per tre passate, in realtà tre più uno perché vogliamo trovare l'arbitraggio, dobbiamo fare cosa? Rilassare tutti gli archi e ci sono sei archi quindi dobbiamo rilassare l'arco da euro a sterlina, da euro a dollaro, da sterlina a euro e bla bla bla, tutti i sei archi. E ogni volta in cosa corrisponde il rilassamento? Corrisponde a chiedersi ma la distanza per arrivare dalla sorgente quindi euro al nodo che stai considerando più il peso dell'arco del che stai considerando perché stai considerando un arco alla volta è minore della distanza tra la sorgente e il nodo in cui si è atterrato con quell'arco? Se la risposta è sì allora significa che hai trovato una distanza più conveniente, cioè un cammino più conveniente e quindi devi aggiornare il corrispettivo nella tabella. Quindi sì significa che hai fatto un rilassamento e che hai fatto un aggiornamento della distanza. Allora inizialmente quindi abbiamo che la distanza tra s e u, stiamo considerando uv l'arco euro sterlina, quindi la distanza tra euro e euro ovviamente è zero, più il costo dell'arco euro sterlina, beh il costo dell'arco euro sterlina è meno 0,68. Quindi meno 0,68 è minore di più infinito? Ovviamente sì e quindi lo mettiamo nella tabella, distanza euro sterlina. Stessa cosa per l'euro dollaro, consideriamo il peso dell'arco euro dollaro, euro dollaro meno 0,37, 0,37 sì e lo mettiamo qui. Passiamo a controllare gli altri archi, quindi sterlina euro, la distanza che c'è tra l'euro e la sterlina, che in questo momento è meno 0,068, più il costo dell'arco sterlina euro, che in questo momento è, no, è, quelli sono i costi degli archi, 0,071, è minore di zero? No, perché fa 0,003. Quindi non dobbiamo fare nessun aggiornamento in corrispondenza di questo valore, non c'è nessun aggiornamento da fare. Invece sterlina dollaro è meno 0,068, perché è la distanza per arrivare alla sterlina, più il costo dell'arco sterlina dollaro, sterlina dollaro è meno 0,117, ovviamente questo è minore della distanza che in questo momento conosco, che conoscevo prima, per arrivare al dollaro è 0,037, questo ovviamente è minore di meno 0,037 e quindi faccio l'aggiornamento. Allora, senza andare troppo nei dettagli matematici, algebrici, non matematici di questo procedimento, vado avanti, vado avanti, ovviamente si faranno dei rilassamenti, questa è la terza passata e adesso però sta per avvenire qualcosa. Siamo alla quarta passata, se questo fosse un grafo senza cicli di costo negativo non dovrebbe avvenire proprio nulla, invece avviene già qualcosa. Cosa avviene? Avviene un rilassamento dell'arco euro sterlina, un altro rilassamento dell'arco sterlina dollaro e un altro rilassamento dell'arco dollaro euro. Quindi intanto già solo il fatto che ci sono stati rilassamenti ci accende il flag che ci dice che questo è un grafo con cicli di costo negativo, ma c'è di più. Gli archi che si sono rilassati sono proprio gli archi euro sterlina, sterlina dollaro, dollaro euro, sono proprio gli archi che fanno parte di questo ciclo di costo negativo. Quindi sono gli archi che noi dobbiamo percorrere per operare questo arbitraggio. E quindi durante la nesima passata di rilassamenti, se ci sono rilassamenti abbiamo cicli di costo negativo, quindi è possibile fare l'arbitraggio, ma siccome se teniamo anche traccia di quali archi si sono rilassati, allora possiamo anche sapere dove dobbiamo fare l'arbitraggio. Ovviamente la risposta potrebbe essere anche più di un punto, non è detto che l'arbitraggio si possa fare solo in un ciclo. Quindi magari avremo una marea, beh, difficile, perché ci sono sistemi di sicurezza, però potremmo avere anche diversi insiemi di archi rilassati, in quel caso avremo diverse opzioni per fare il nostro arbitraggio. Vabbè, questa era l'applicazione che termina qui, per dire che quindi possiamo, almeno potevamo 20-30 anni fa, con le nostre conoscenze di informatica, ovviamente bisogna però avere queste informazioni in tempo reale dal mercato, quindi se c'è queste informazioni sul sito web, dobbiamo scrivere un programma che fa un po' il parsing di quel sito web, oppure se c'è un servizio web che ci dà quelle informazioni, in realtà probabilmente le informazioni hanno un ritardo, quindi ecco già questo è un sistema di sicurezza, cioè un servizio web che vi dà le informazioni sul mercato valutario, magari ve le dà con un ritardo tale, che voi vi fate i vostri calcoli dell'arbitraggio, andate poi per eseguire l'arbitraggio, eseguire significa, fai il cambio di, che ne so, 10.000 euro, cambio 10.000 euro in sterline, poi li cambierò in dollari e poi in euri. In tutto ciò ci sono diverse variabili che non ho considerato. Il tempo, perché nel mentre io faccio questi cambi potrebbe cambiare questi pesi del grafo e cambiano, quindi quello che pensavo essere un arbitraggio poi si trasforma in una perdita e quindi da 10.000 euro che avevo, adesso magari ne ho 9.900, ho perso 100 euro. In più ci sono i costi fissi, cioè se avete mai fatto cambi di valute perché siete andati all'estero, certo non ultimamente perché è più difficile, però mi è capitato, forse è capitato sicuramente a qualcuno di voi, che si paga un costo fisso e questo costo fisso dipende da dove lo fate il cambio, magari ci sta, ne so, l'ufficio che vi fa un prezzo e l'ufficio B che vi fa un altro prezzo. Quindi i costi fissi servono anche a scoraggiare l'arbitraggio, perché chiaramente se voi in questo ciclo considerate adesso anche i costi fissi, non è più detto che quello che pensavate essere un guadagno sia tale, potrebbe diventare di nuovo un pareggio o una perdita. Però se uno conosce anche i costi fissi, ce li mette qua dentro, ce li mette dove, li considera qua dentro come mettere i costi fissi, quando questi sono ancora dei tassi moltiplicativi, li aggiusta in funzione dei costi fissi che conosce. Quindi comunque abbiamo ancora un grafo che possiamo trasformare con i logaritmi e possiamo ancora applicare l'algoritmo. Quindi noti i costi fissi, sarà un po' più difficile che si verifichi, ma non è detto che sia impossibile. Se lo facciamo in tempi brevi, abbiamo costruito il nostro software che in tempo reale riesce a fare questi movimenti, non è scuso perché qualcuno ancora lo fa. Oggi l'arbitraggio non è impossibile e si verifica, raramente, ma si verifica. Ragazzi, avete guadagnato. Ovviamente questo non vale solo nel mercato valutario, ma anche nel mercato azionario. Quindi uno compra un pacchetto di azioni che poi scambia con un altro pacchetto, che poi scambia con un altro pacchetto e poi scambia con un pacchetto delle azioni di partenza. Nel frattempo ci ha guadagnato, ha guadagnato tre azioni, quattro azioni, dipende ovviamente dal costo delle azioni. E quindi sono cose che possono avvenire, che avvengono ed è legale. Quindi, non lo so, vedete voi, io non ci ho mai trovato, però è un problema noto. Ci sono meccanismi di sicurezza proprio per evitare ciò. Va bene. Se non avete domande su questo, io passerei al prossimo argomento. Questo è un argomento nuovo di quest'anno. Mi faceva piacere darvi anche una giustificazione concreta del fatto che i cicli di costo negativo hanno un valore, in alcuni casi, non sono un problema meramente teorico senza alcuna utilità pratica. Invece ce l'hanno e Bellman Ford è l'algoritmo che trova il ciclo di costo negativo. Mentre, per esempio, altri algoritmi, come quello che vedremo adesso di ordinamento topologico e Dijkstra, non sono in grado di trovare cicli di costo negativo. Quindi, Bellman Ford, per come è strutturato, ci viene a gratis utilizzarlo, riciclarlo, con una ulteriore passata di rilassamenti per trovare i cicli di costo negativo e addirittura ci fa trovare proprio gli archi su cui avvengono questi cicli di costo negativo. E questa è una caratteristica. Bellman Ford, a volte, è usato più per questo che non per trovare i cammini mini. Vabbè, comunque, ne abbiamo parlato. Avete domande su questo? Su come diventare ricchi? Volete fare una joint venture? Ci mettiamo insieme, ci lavoriamo? Sto scherzando, ovviamente. Immagino che dall'altra parte ci saranno ingegneri informatici con lo scocones che eviteranno che noi, dal nostro lato, riusciamo a fare una cosa del genere con uno sforzo così, diciamo, modesto. Ovviamente queste sono cose che avvengono quando ci si investe molto, quindi super computer, programmatori molto bravi e anche trovare il mercato valutario in cui questa cosa è più probabile, cioè individuare quelle valute di partenza in cui questo è più possibile. Quindi immagino valute più instabili, ok? Che hanno delle oscillazioni molto importanti durante la giornata, oscillazioni che mettono poi in difficoltà i sistemi di sicurezza. Va bene, chiudo qui adesso questo discorso sulle valute. Il prossimo algoritmo per trovare cammini minimi sempre a sorgente singola sfrutta il fatto che in alcuni casi rari, ma di nuovo non possiamo escluderlo come nei casi di cicli di costo negativo, ci potrebbero essere dei grafi senza cicli, diretti senza cicli, orientati diretti senza cicli. In questo caso riusciremo a dimostrare che si possono trovare i cammini minimi con un costo praticamente minimo. ODM più N è il costo della visita del grafo. Meno di questo proprio non è possibile fare, se parliamo di ottimo. Se parliamo di algoritmi subottimi ovviamente non è manco necessario in quel caso visitare tutti i nodi e gli archi del grafo. Allora questo algoritmo si basa sulla numerazione ordinata dei vertici, cioè se il grafo non ha cicli, allora una proprietà, un corollario banale che se esiste un cammino da U a V non può esistere un altro cammino da V ad U, altrimenti se esistesse avrei chiuso il ciclo, quindi avrei fatto un ciclo e quindi non sarebbe ciclico. Pertanto se esiste un cammino, per ogni cammino di questo grafo non esiste il cammino inverso, quindi il grafo è come se avesse una sorta di direzionalità, cioè esiste una direzione di percorrenza del grafo che non può essere invertita, cosa che invece avviene in tutti i grafi in cui ci sono, per esempio nel grafo di prima ovviamente non è questo il caso, si può sempre tornare a punto di partenza. Nei grafi ciclici no, quindi c'è una direzione di percorrenza. L'ordinamento topologico è una funzione che associa ai vertici del grafo un numero ordinato, quindi i nostri vertici del grafo sono ordinabili, questa è la novità, sono ordinabili perché il grafo non avendo cicli ha una sua direzionalità. Per esempio questo grafo a sinistra ha un ordinamento, scusate, questo grafo a sinistra si può ridisegnare senza cambiarlo di una virgola in quest'altro modo, mettendo però i vertici in un ordine che mostra una volta di più che i grafi senza cicli hanno una direzionalità. Questo è un grafo senza cicli, si può verificare insomma anche un po' i tentativi, ma vi assicuro che questo è un grafo senza cicli. Questo stesso grafo si può ridisporre, ridisegnare, perché tanto è soggettiva il modo in cui un grafo si disegna, non c'è un modo. Questo per esempio è un altro possibile modo di disegnare il grafo, mettendo i vertici allineati secondo il loro ordinamento topologico, che ancora dobbiamo discutere, non vi ho detto come si fa, però questo sarà il risultato. Vedete che A era connesso a B, C ed F ed è ancora connesso a B, C ed F. F è connesso a C e G, F è connesso a C e G. Ora è inutile che sto a verificarlo, ma tutto questo grafo è esattamente equivalente al grafo di sinistra. Eppure notate che ci sono sempre archi in avanti, appunto perché se non ci sono cicli i cammini sono sempre in avanti, non si può tornare indietro, quindi di conseguenza deve essere possibile ordinare i vertici secondo un ordinamento. E allora vi presento quindi il calcolo di questo ordinamento topologico, l'algoritmo che appunto vi consente di calcolare questo ordinamento. Si parte da un vertice senza archi entranti, come lo troviamo in un vertice senza archi entranti. Per esempio si potrebbe trovare o i nodi n, dipende dalla struttura che stiamo considerando, però se siamo furbi e vogliamo già applicare questo algoritmo, basta che i nostri nodi del grafo abbiano un ulteriore variabile membro, parlo di programmazione oggetti, che viene aggiornato ogni volta che noi ci mettiamo degli archi entranti, quindi mantiene il numero di archi entranti. E quando un grafo, un nodo, ha un numero pari a zero di archi entranti, lo mettiamo in una lista dedicata, lista di nodi senza archi entranti, che ne so, la chiamiamo... i nodi senza archi entranti hanno un termine, si possono chiamare in un modo specifico che non ricordo, però comunque si mettono in una lista separata. Quindi quando devo prendere un vertice senza archi entranti, lo posso prendere da questa lista in nodi 1, quindi con un po' di creatività ho risolto il problema. Ora, il vertice senza archi entranti, il primo vertice senza archi entranti, gli diamo sigma, è la nostra funzione che associa al vertice un numero che poi deve essere ordinato, gli diamo 1 e lo cancelliamo. Avendolo cancellato, si può dimostrare che in un grafo aciclico sicuramente esisterà almeno un altro vertice senza archi entranti. Lo prendiamo dalla lista quindi, gli diamo 2 e lo cancelliamo. Andiamo avanti fin quando il grafo non è vuoto. Tutto qua. Quindi abbiamo la lista di uscita che dobbiamo restituire, c'è l'ordinamento topologico, quindi una lista di vertici nell'ordinamento topologico e diciamo finché esiste un vertice U senza archi entranti, in G cappello perché è un grafo che stiamo modificando perché andiamo a cancellare i nodi, mettiamo U come ultimo nodo della nostra lista, lo rimuoviamo e rimuoviamo anche tutti i suoi archi uscenti perché per rimuovere un nodo bisogna anche rimuovere gli archi che coinvolgono quel vertice. A un certo punto il grafo sarà vuoto, quando il grafo è vuoto abbiamo finito, se il grafo invece non è vuoto ed esistono, quindi non ci sono più vertici senza archi entranti e il grafo non si è svuotato, allora il grafo non è ciclico, non è aciclico, questo lo possiamo vedere a breve. Allora facciamo adesso un esempio, proviamo un nodo in questo grafo senza archi entranti, allora B ha archi entranti, E ce li A, B ce li A, C ce li A, G ce li A, F ce li A, A non ce li A, quindi A è il nostro primo nodo dell'ordinamento topologico, lo eliminiamo e eliminiamo anche i suoi archi uscenti. Adesso quali altri vertici non hanno archi entranti? B no ce li A, C ce l'ha da F, F non ce l'ha più, quindi il prossimo vertice F, quindi A, F, togliamo adesso i suoi archi. Adesso avremo che G ha un arco da C, C non ha più niente, B ha ancora un arco da C, quindi C è il prossimo vertice e così via ragazzi, avete visto che stiamo componendo il nostro ordinamento topologico. Facciamo un altro esempio, magari facciamolo con uno di voi, quindi mettiamo una figura, una figura non troppo difficile, orientato, grafo orientato, ecco non troppo difficile ma nemmeno troppo facile, per esempio deve essere ciclico, quindi attenzione, per esempio questa, mi sembra che sia ciclico, controlliamo tutto questo tempo, solo per caricare un'immagine, sì, ok, no, c'erano le frecce, me le sono inventate, ok, qua ci sono le frecce, là non ci sono le frecce, vabbè pazienza, beh insomma mi non mi arrendo, quindi, ok. È senza cicli? Sì, sembra di sì, 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 è senza cicli, è un grafo ciclico. Perfetto, chiedo a uno di voi di calcolare un possibile, perché non è detto che ce ne sia uno solo, è un possibile ordinamento topologico. Prego, chi si vuole cimentare? Queste sono tutte, quando io vi chiedo a voi di fare una cosa, è probabile che sia una possibile domanda di esame, quindi è in vostro interesse provarci ora, che tanto non avete nulla da perdere. Posso, professore? Vedi Alessio. Eh? Va bene, vai Federico, vai tu. Eh, va bene, va bene. Ok, anche per cambiare, perché insomma Ricci, giusto, Ricci si propone spesso. Eh sì. Allora, da dove partiamo? Da zero sicuramente, perché non ha archientrante, poi rindo zero al primo, poi uno perché proviene da zero ma l'abbiamo eliminato, quattro perché proviene sempre da zero l'abbiamo eliminato, sì. Eh tre perché abbiamo eliminato uno, zero e quattro e poi due. Quindi zero, uno, quattro, due. Perfetto. Ricci, era possibile, secondo lei, un altro possibile ordinamento o era questo l'unico possibile? Eh, prof, sinceramente non ho sentito bene quello di Federico. Rispondo io. Allora, eh, ci sono due possibili ordinamenti. Esattamente, non c'è un solo possibile ordinamento. Sicuramente bisogna partire da zero, quello è assodato. Però una volta tutto zero, io ho ciò che quattro pure oltre a uno è senza archientranti, quindi avrei potuto fare zero, quattro, uno, perché comunque tre c'ha uno che gli punta, tre, due. Quindi erano due possibili ordinamenti. Zero, uno, quattro, tre, due. Zero, quattro, uno, tre, due. Ok? Quindi va bene, bravi. Era un esempio questo che vi chiedevo. Ok, quindi non è difficile trovare un ordinamento topologico. Dai, insomma, in maniera anche abbastanza meccanica, non saperemo neanche ricordarsi proprio l'algoritmo, le righe di codice, piglia un nodo senza archientranti, lo togli e pigliene sempre un altro. Il problema è che, che succede se l'arco invece è ciclico? ovvero ha almeno un ciclo. Ok, per esempio questo. Succede che, dove sta? Open image in new tab. Succede che, no, vabbè, lascio, mi accontento di questa. In questo caso il grafo è ciclico, quindi io tolgo A perché è senza archientranti. C'ho B, che adesso però ha un archientrante, C c'è l'A, E c'è l'A, D c'è l'A, F c'è l'A. Oh oh. Non posso fare niente. Quindi ho tolto A e mi sono bloccato. Quindi il grafo ancora non è vuoto, però non ci sono più archientranti, non ci sono più nodi senza archientranti. Quindi questo è anche un modo molto veloce per verificare se un grafo è ciclico oppure no. Elimino iterativamente nodi senza archientranti. Se alla fine il grafo si è svuotato, allora era ciclico. Se non si è svuotato il nodo, il grafo era ciclico. Quindi abbiamo trovato anche una funzione tipo is cyclic graph, che opera praticamente lo stesso algoritmo. Ok, ma tutto questo a che serve? A che serve l'ordinamento topologico? Perché abbiamo discusso questo? È un po' lo stesso discorso di Ben & Ford sui rilassamenti. Io vi ho detto che ormai tutti gli algoritmi si basano sui rilassamenti. E anche questo algoritmo si basa sui rilassamenti. E anche questo vorrebbe seguire l'ordine di rilassamento ideale, cioè vorrebbe anche questo algoritmo sapere qual è in anticipo il cammino minimo e fare rilassamenti nell'ordine corretto. Ora di nuovo questo non è possibile. Allora uno dice che fa? Facciamo come a Ben & Ford? Facciamo n passate di tutti i possibili rilassamenti? Sembra quasi essere davvero così. N sembra quasi essere proprio questa la soluzione. Ma c'è un vantaggio rispetto a prima. Il vantaggio è che il cammino minimo è un cammino. Quindi essendo un cammino tra i tanti, deve per forza rispettare la direzionalità del grafo perché il grafo è aciclico. Quindi deve essere per forza di cose che il nostro cammino minimo, essendo un cammino di un grafo aciclico, se abbiamo trovato un ordinamento topologico, per forza deve essere che S ha un numero minore di v1 del cammino minimo, di v2 fino a vk. Cioè i nodi del cammino minimo, così come i nodi di qualunque altro cammino del nostro grafo, devono rispettare l'ordinamento topologico. Quindi, anziché procedere al buio, come nel Benman Ford, cioè rilassiamo tutti gli archi per n passate, qui i rilassamenti li possiamo fare a partire dal vertice che sta più a sinistra nel nostro ordinamento topologico. Quindi cosa facciamo? Piliamo il primo vertice, gli rilassiamo gli archi, tutti gli archi che escono da quel vertice. Poi prendiamo il secondo vertice, gli rilassiamo tutti gli archi che partono da quel vertice. Cioè stiamo facendo rilassamenti proprio secondo l'ordine in cui essi devono essere fatti. Quindi non abbiamo bisogno di fare n passate di m rilassamenti, ma semplicemente ci dobbiamo solo spostare lungo l'ordinamento topologico, per ogni nodo, quindi per ogni nodo, sia u l'iesimo vertice dell'ordinamento topologico. E questo non è per ogni arco di tutto il grafo, ma per ogni arco dove u è il nodo in cui ti trovi. Quindi per ogni arco uscente. Quindi questo ciclo, che in apparenza è molto simile a Ben Manford, in realtà nasconde questa sottigliezza importante. Che questi non sono tutti gli archi del grafo, ma solo quelli uscenti dal nodo in cui mi trovo. Perché vogliamo rilassare gli archi nell'ordine in cui esploriamo il grafo, perché quello è lo stesso ordine del cammino minbo. Pertanto, quanti rilassamenti faremo? Ogni arco viene rilassato uno alla volta. Quindi quanti archi ci sono M? Quanti nodi ci sono N? Quindi noi in realtà stiamo considerando N nodi, perché ci stiamo prendendo dall'ordinamento topologico, quindi O di uno per ogni uno dei nodi, e poi stiamo prendendo ognuno degli archi uscenti da ogni nodo, quindi M in totale archi del grafo. Quindi questo algoritmo ha banalmente una complessità O di M più N. Quindi questi sono rilassamenti così come Ben Manford. Questo però ciclo non è su tutti gli archi del grafo, ma solo sugli archi di quel vertice, e questi vertici noi li stiamo esplorando secondo l'ordine del cammino minimo. E questa è la novità. Mentre Ben Manford prima noi dovevamo fare N passate di tutti gli archi, perché non sapevamo con quale ordine esplorare i nostri nodi. Nessuno ci dice con quale ordine. Se il grafo è ciclico, sappiamo trovare un ordinamento topologico, sappiamo che l'ordine per forza quello deve essere, pertanto possiamo risparmiare tutti gli altri rilassamenti inutili che sono stati fatti in Ben Manford. E quindi niente, è finita qua la storia. È un algoritmo molto semplice che però trova applicazioni più rare, ovviamente grafi senza cicli. Avete domande su questo? Se non avete domande, passiamo praticamente all'algoritmo principe di questo corso, forse il più importante di tutto il corso. Vabbè, se non avete domande, iniziamo questo ultimo algoritmo. Non è l'ultimo, però comunque è il più importante. Allora, l'algoritmo di L'Aextra trova cammini minimi a sorgente singola in grafico, con costi non negativi, non cicli, perché ovviamente se ci sono cicli negativi, nemmeno gli altri ci riescono. Gli archi devono avere costi strettamente positivi o maggiore di zero. Per esempio, tante applicazioni soddisfano questo requisito, i navigatori satellitari, le reti di calcolatori, modelli computazionali, ne so, cubi di rubic, eccetera. E vedremo che il costo, dimostreremo che il costo, la complessità di Dijkstra, è un costo conveniente rispetto a Bellman-Ford, perché anziché essere m per n, è m più n logaritmo in base a 2 di n, che è un po' simile all'ordinamento, quindi comunque un numero abbastanza piccolo che cresce lentamente. Questo è veramente molto più conveniente rispetto a Bellman-Ford, meno conveniente rispetto all'ordinamento topologico, ma quello abbiamo visto che non si... Già in un grafo stradale non è possibile applicare quel tipo di algoritmo. Bene, Dijkstra, ve lo sparo subito con un lemma, perché in realtà l'algoritmo di Dijkstra sta tutto qua. Sì, poi dovremmo fare tutta una serie di considerazioni computazionali, ma Dijkstra è un algoritmo ottimo e l'ottimalità si deve dimostrare in matematica. Quindi, purtroppo, c'è questa dimostrazione. Mentre in Bellman-Ford l'ottimalità è garantita da un approccio brute force, cioè le provo tutte, prima o poi lì becco quelli giusti. Quindi là, sì, si può dimostrare in maniera più formale, ma si può anche dimostrare intuitivamente che se io faccio tutto quello che c'è da fare, includerò anche... se faccio tutte le cose possibili, includerò anche quelle che mi serve fare. E però ci mette tanto. Quello topologico, che c'è da dimostrare? Quello non c'è cicli, quindi il ciclo, il cammino minimo in quella direzione deve andare, quindi noi i rilassamenti li facciamo in quella direzione e ovviamente faremo sicuramente i rilassamenti giusti. In Dijkstra, invece, è molto più raffinato dei precedenti due algoritmi e appunto dimostrare che davvero Dijkstra funziona non si fida e quindi ha bisogno di una dimostrazione. Quindi supponiamo di avere un grafo orientato con pesi strettamente maggiori o uguali di zero, non negativi quindi. Si a T un albero che visualizziamo con questo triangolo radicato in S, perché ricordiamoci il problema è da una sorgente trova tutti i cammini minimi verso le destinazioni. Questo albero è l'albero dei cammini minimi, cioè l'albero che contiene solamente gli archi che fanno parte dei cammini minimi. Però è un albero parziale, non è l'albero di tutto il grafo, è l'albero dei cammini minimi che arriva fino a un certo punto, che ancora non include tutti i vertici che stanno al di fuori di questo albero. Quindi immaginate, perché è così che fa Dijkstra e poi anche Astar fa una cosa molto simile, immaginate che voi state calcolando la distanza più breve da Roma a Milano, immaginate che l'approccio che si basa su Dijkstra, è un Dijkstra modificato, fa un'esplorazione comunque locale inizialmente, mano a mano si espande sperando di arrivare finalmente alla destinazione. In realtà questa cosa avviene simmetricamente, si fa un'espansione dalla sorgente alla destinazione e contemporaneamente dalla destinazione alla sorgente sperando che questi alberi prima o poi si incontrino e quando si incontrano, prima o poi si devono incontrare in realtà, quando si incontrano il punto d'incontro è il cammino minimo totale. Questo è quello che avviene nei navigatori di tutti i giorni. Se usiamo Dijkstra, il meccanismo con cui questo albero si espande è ottimale. Se usiamo un algoritmo subottimo, perché Dijkstra non ce la fa, per esempio usiamo Astar, il meccanismo con cui quest'albero si espande non è ottimale, cioè non usa proprio questo lemma. Quindi se usiamo questo lemma per espandere l'albero dei cammini minimi, è garantito l'ottimo, ma ovviamente ci servirà una complessità computazionale più elevata. Se non usiamo questo lemma, allora dobbiamo usare un meccanismo più empirico, quindi non matematico, empirico del tipo e vabbè ma se io devo andare a Roma è inutile che vado a Caglianello, Caglianello sta alle spalle rispetto alla direzione di Roma, quindi manco ci provo a espandere l'albero nella direzione che sta alle mie spalle. Anche se a volte è necessario fare un passo indietro per andare in avanti, però magari non faccio un grosso passo indietro per andare in avanti. Sono tutte considerazioni empiriche che si basano sull'esperienza, cioè non mi piace andare indietro per andare avanti. Se invece vogliamo fare l'ottimo, allora possiamo usare questo lemma. Quindi vediamo questo lemma. Il lemma ci dice che dato questo albero parziale dei cammini minimi che inizialmente è vuoto ovviamente, quindi lo costruiamo mano a mano durante il procedimento, tra tutti i vertici U e V in cui U fa parte dei vertici dell'albero parziale che stiamo costruendo, mentre V non fa parte, quindi U diciamo che sta al di qua della frontiera, sta dentro, U sta dentro, V invece sta fuori. Tra tutte le coppie, vertice che sta dentro, vertice che sta fuori, l'arco U-V, quindi devono essere delle coppie connesse da un arco, altrimenti non ci interessano, quindi stiamo dicendo che tra tutte e tra tutti gli archi che connettono l'interno del nostro albero dei cammini in costruzione con l'esterno, noi dobbiamo scegliere l'arco che minimizza questa quantità, perché se scegliamo questo arco specifico che minimizza questa quantità, allora quell'arco appartiene matematicamente dimostrabile al cammino minimo che va dalla sorgente alla destinazione che ci interessa. Quindi è un arco che deve minimizzare la distanza della sorgente a U più il peso U-V e questa cosa, ragazzi, ricorda molto il rilassamento, effettivamente. Abbiamo trovato un arco che soddisfa, minimizza questa quantità, quindi che ci consente di arrivare alla destinazione V in tempo più breve rispetto a tutti gli altri archi. Quindi, intuitivamente, noi potremmo anche fermarci qui, non fare la dimostrazione. Cioè, è abbastanza intuitivo che se tu devi andare dall'interno all'esterno sceglierai l'arco che ti consente di arrivarci prima. Non è una cosa anti-intuitiva, però dobbiamo dimostrarlo che effettivamente questa cosa funziona. Una possibile dimostrazione è per assurdo, quindi supponiamo per assurdo che l'arco UV, che è quello che minimizza quella quantità, non appartenga al cammino minimo che va da S a V. Quindi, se non appartiene, significa che la distanza vera tra S a V è minore della distanza che passa per U e l'arco UV. Se abbiamo detto che non appartiene al cammino minimo, allora la disuguaglianza triangolare deve valere, ovvero, ci deve essere un altro possibile modo ignoto per adesso per arrivare a V partendo da S. E quest'altro possibile modo deve darci una distanza più breve rispetto a quella che conosciamo, perché quella che conosciamo non fa parte del cammino minimo. Quest'arco qui non fa parte del cammino minimo. Quindi, esisterà un altro arco XY, lui sì che appartiene al cammino minimo, con X che sta al di qua della frontiera e Y che sta al di là della frontiera, che mi consente di arrivare a V in tempo più breve. Ci sto dicendo che se non è questo l'arco UV, quello giusto, allora deve esistere un altro arco che passa, per esempio, da Y e mi consente di arrivare a V. Cioè, se non è quello che da U va a V, ci deve essere un altro percorso che da X va a V passando attraverso un altro vertice Y. Quindi, questo è un percorso alternativo. Stiamo dicendo per assurdo che questo percorso alternativo è più breve di questo. Quindi, questo percorso qui, S-X-Y-V è più breve di S-U-V. Ora, nella figura non sembra, ma potrebbe essere, chi lo sa. Questi sono percorsi ignoti, quindi potrebbe essere più breve. Allora, la proprietà dei cammini minimi, in particolare di sottostruttura dei cammini minimi, ci dice che se è vero che abbiamo trovato un arco X-Y che fa parte del cammino minimo, allora deve valere la diseguaglianza triangolare con l'uguale, quindi la distanza tra S-V deve essere uguale alla composizione di S-X più il costo dell'arco X-Y più il costo del cammino Y-V, cammino minimo questo. Beh, perché abbiamo detto che così se esiste un arco più conveniente, allora passando da quell'arco, quindi attraversare questo cammino, quindi S-X-X-Y-Y-V, deve essere la scelta migliore possibile, quindi ci deve dare esattamente la distanza da S-V. Beh, noi per ipotesi però abbiamo detto che l'arco U-V minimizza questa quantità, quindi se noi ci mettiamo di S-U più V di U-V, questo siccome è minimizzante di questa quantità, deve essere minore o uguale della stessa quantità in cui a posto di U-V ci sono X-Y, quindi per ipotesi di S-U più V di U-V deve essere minore o più uguale, perché abbiamo detto che questo minimizza la quantità di S-U più V di U-V, cioè l'arco di tutti quanti quello che ci dà la quantità minore di questa equazione, quindi questo è minore di S-X più V di X-Y. Pertanto abbiamo trovato qui, questa è la proprietà che abbiamo prima enunciato, abbiamo trovato qualcosa che possiamo minorare, questa quantità qui, che è esattamente quella che abbiamo appena trovato, possiamo minorarla e quindi di conseguenza possiamo maggiorare di S-V, quindi possiamo maggiorare di S-V con, al posto di di S-X più V di X-Y, non ci mettiamo di S-U più V di U-V, quindi di S-U più V di U-V, è rimasto poi questo termine. ma ecco che interviene un'altra ipotesi del nostro lemma, i costi sono non negativi, pertanto il peso del cammino minimo da Y a V per forza di cosa deve essere maggiore o uguale di zero, perché i costi sono non negativi, quindi al più sono tutti zeri e quindi è zero, basta uno che si è diverso da zero e sarà maggiore di zero, quindi se questo è maggiore o uguale di zero, allora di S-V si può maggiorare, si può si può minorare, scusate, no, si può maggiorare con questa quantità in cui abbiamo eliminato V di pi greco di Y di V, perché tanto questo è sicuramente maggiore o uguale di zero. allora questa quantità di S-U più V di O-V purtroppo per ipotesi abbiamo detto che, ipotesi di assurdo, l'abbiamo detto all'inizio, che di S-U più V di O-V è maggiore di di S-V, quindi di S-V è maggiore di di S-V, non può essere, è un assurdo ovviamente, sono la stessa quantità, quindi abbiamo dimostrato per assurdo che per forza di cose quando stiamo costruendo un albero dei cammini minimi e ci chiediamo quale altro arco aggiungere al nostro albero dei cammini minimi la soluzione che ci dà il lemma di D'Axtra è scegli l'arco che tra tutti gli archi che connettono l'interno con l'esterno minimizza questa quantità qual è questa quantità? è la somma della distanza che va dalla sorgente al nodo iniziale di questo arco più il peso di questo arco se questa quantità è minimizzata allora quello è l'arco da scegliere facciamo degli esempi qui stiamo cercando di dare la complessità io voglio prima trovare un esempio ecco qua facciamo un esempio poi ne facciamo un altro insieme a voi allora abbiamo il seguente grafo orientato e pesato è un grafo è un grafo aciclico quindi uno potrebbe dire ma perché stiamo usando da extra però vabbè ragazzi è solo dimostrativo è vero potremmo fare con l'ordinamento topologico però vogliamo usare da extra partiamo dalla nostra sorgente quindi vogliamo calcolare l'albero dei cammini minimi tra tutti i possibili destinazioni del nostro grafo quindi inizialmente il nostro albero è formato solo da s adesso dobbiamo scegliere tra tutti gli archi che connettono praticamente s all'esterno quindi questi tre archi dobbiamo scegliere quello che minimizza la quantità di DSU ma U in questo momento è la sorgente stessa quindi di DSS sarebbe zero più il costo dell'arco quindi inizialmente ragazzi dobbiamo scegliere l'arco di costo minimo 7 14 30 7 sarà l'arco che sceglieremo ecco in questo momento questo è il nostro la nostra frontiera in questo momento è formata da AB AB è il nostro e il nostro in questo momento albero dei cammini minimi adesso noi abbiamo AB e dobbiamo scegliere tra tutti gli archi che connettono questo AB con il resto del grafo l'arco che minimizza la quantità di cui parlavo prima quindi i candidati sono questo 6 14 e 30 non ci sono altri archi che connettono AB con il resto del grafo abbiamo 6 che ci dice la distanza per andare dalla sorgente alla TSU al nodo che stiamo considerando quindi U e B stiamo considerando l'arco BC la distanza è 7 in questo momento più il costo dell'arco è 6 quindi 13 quindi abbiamo 13 da una parte e ce lo mettiamo da parte poi abbiamo e beh poi abbiamo 14 perché U sarebbe A e V sarebbe C quindi il costo sarebbe 00 più 14 e poi abbiamo 30 quindi tra 13 14 e 30 ovviamente scegliamo 13 e quindi questo arco adesso fa parte del nostro albero dei cammini minimi e poi cosa scegliamo? Adesso abbiamo A, B e C con archi AB e BC il resto del mondo è di nuovo D tramite l'arco AD e CE quale scegliamo? e beh per arrivare qui impiego 13 più 1 impiegare 14 quindi mettiamo 14 da una parte qui invece impiego 30 e vabbè scelgo ovviamente 13 scusate 14 quindi utilizzerò adesso questo arco lo metterò nell'arbero dei cammini minimi a questo punto abbiamo A, B, C, E come nodi nel nostro albero e archi AB, BC, CE nel nostro albero dei cammini minimi gli archi da considerare adesso candidati sono E, F E, G e AD sono gli archi che ci connettono dall'interno all'esterno abbiamo qui 14 per arrivare a E più 6 fa 20 più 9 fa 29 scusate 14 più 6 fa 20 più 9 fa 23 quindi 20 23 30 scegliamo ovviamente 20 ovvero quest'arco qui in effetti l'arco F adesso viene a far parte dell'arbero dei cammini minimi a questo punto abbiamo rimasti gli archi F, G E, G e AD per arrivare a F abbiamo applicato 20 20 più 4 fa 24 ma se passiamo da E e a E arriviamo con 14 più 9 23 23 conviene rispetto a 24 e conviene anche rispetto a 30 quindi il prossimo arco che andremo a inserire è proprio E, G a questo punto abbiamo quasi finito perché adesso abbiamo questo ormai l'abbiamo già considerato abbiamo soltanto un arco che ci connette l'interno con l'esterno e ovviamente quella è l'unica cosa che possiamo scegliere e quindi lo scegliamo e questo è il nostro albero dei cammini minimi quindi una sottoparte dei una porzione degli archi sono stati scelti quali quelli che rispettavano quella condizione ok tentiamo adesso di farlo insieme con uno di voi mi rendo conto che questo è difficile da extra è difficile rispetto ad altri algoritmi farlo senza carta senza foglie di carta è sicuramente più difficile però ci proviamo e anche con mi aiuto non vi preoccupate allora proviamo per un caso un caso non troppo difficile non troppo facile ma sì anche questo perché no mi garba questo sì chi se la sente ad applicare da extra a partire da zero prof a questo punto visto che non ho potuto rispondere prima faccio io è condannato a farlo prego allora da zero prendo l'arco che unisce ad uno che vale tre sì perché quale sarebbero le alternative tre sette e otto quindi quest'arco me lo metto in saccoccia va bene poi l'arco da uno a due quindi è il minimo all'interno del grafo per unirlo facciamo il ragionamento per intero devo considerare questo arco che in quella quantità varrebbe tre per arrivare a uno più uno quattro a due però ci potrebbe arrivare anche ma non fa parte del in questo momento il nostro grafo è zero il nostro labbro dei cammini minimi è zero uno quindi dobbiamo vedere da lì per arrivare all'esterno possiamo arrivare a due in quattro a tre in sette oppure in sette quindi uguale e a quattro in otto quindi abbiamo otto sette e quattro quindi ci conviene andare in due tramite l'arco uno due giusto adesso il nostro labbro dei cammini minimi è questo arco e quest'altro arco non si può più unire dato che non ha una freccia orientata verso un altro nodo e quindi ritorno su uno posso unire ad uno il tre oppure il tre lo posso unire tramite il sette oppure tramite il quattro unendolo tramite uno il cammino vale sette da zero vale sempre sette mentre passando per il quattro per il quattro abbiamo otto più tre quindi abbiamo undici e quindi conviene collegarlo o tramite zero o tramite uno posso interrompere la interrompo un attimo in realtà quando noi consideriamo gli archi non consideriamo tutti gli archi ma solo quelli che vanno dall'albero che stiamo costruendo all'esterno quindi in questo momento noi abbiamo solamente zero uno e due nodi nel nostro grafo quindi possiamo considerare soltanto questo arco solo questo arco e solo questo arco ma non questo quindi è giusto però la scelta è giusta però è meglio specificare che non stiamo considerando tutti gli archi quindi questo arco vale sette questo arco vale sette e questo arco vale otto ma non otto più tre vale otto punto non possiamo fare un doppio passo capito e quindi vabbè la scelta decide lei quale tra questi due mettere è opinabile scelga lei insomma l'arco che va da uno a tre va da uno a tre adesso abbiamo nel nostro albero i nodi zero uno due e tre sì l'unico che si può collegare a quattro è l'arco tramite otto e quindi si collega a quello esattamente quindi ha notato come questo sette praticamente non l'abbiamo più considerato di nuovo cioè gli archi vengono considerati non è detto vengono considerati uno una sola volta però possono essere considerati anche solo una volta poi scartati e mai più mai più ripresi comunque sì va benissimo vediamo se trovo un altro grafo un po' più complesso spero non troppo eh insomma che cosa è questo mamma mia no questo è troppo dai vabbè io direi che come esempi ci siamo dai anche perché poi ne faremo un altro perché da extra questa non è l'ultima versione di da extra che se mi piacerebbe fare un altro esempio vabbè insomma non riesco a trovare un grafo con le caratteristiche che vorrei comunque due esempi e meglio ovviamente di nessuno forse questo eh questo sì è un esempio sì mi piace questo esempio eh sì è un po' sgranato però meglio di niente chi se la sente? qualcuno diverso da Ricci? però questo c'ha gli archidoppi è una bella complicazione non è che non si può fare che è più complicato farlo quindi non me la sento nemmeno io figurati insomma non chiedo a nessuno di voi è complicato ragazzi perché gli archidoppi insomma ripeto si può fare però bisogna considerare eh beh possiamo anche farlo insomma però farlo allora scelgo da A noi possiamo andare in B e in H quindi scegliamo ovviamente la strada più breve quindi 4 quindi questo in questo momento è il nostro albero dei cammini minimi ora da B noi possiamo andare di nuovo in A però Daxra ci dice che dobbiamo considerare solo gli archi che ci consentono di andare all'esterno dell'albero in cui ci troviamo quindi forse questo risolve anche il problema del fatto di poter tornare indietro non serve tornare indietro non possiamo tornare indietro quindi da B noi possiamo andare in C e in H e da A possiamo andare in H quindi sono tre gli archi questo questo e questo che dobbiamo considerare 4 più 8 fra 12 4 più 11 fa 15 e 8 è 8 quindi quindi questo è l'arco che scegliamo quindi scegliamo questo arco abbiamo scelto adesso questi due archi quindi questi tre nodi dobbiamo adesso considerare questo arco qui no questo arco qui no perché abbiamo scelto questi tre nodi bene questo arco qui questo arco qui e questo arco qui allora per andare in C ci metto 4 più 8 12 per andare in I ci metto 8 più 7 15 per andare in G ci metto 9 quindi scelgo questo arco perché minimizza la quantità quindi adesso abbiamo A B H G come nodi del labbro e archi A B A H H G adesso gli archi che dobbiamo considerare sono di nuovo questo questo e questo e anche questo perché G è connesso in F non questo perché sono nodi dello stesso albero abbiamo qua sempre 12 qua ci si può andare con due archi quindi ci si può andare da qui con 15 da qui con 9 più 6 15 e poi possiamo andare in F con 9 più 2 11 questo era 12 quindi vince ancora quest'arco qui quindi abbiamo incluso F e questo è l'arco che abbiamo incluso prossima iterazione possiamo adesso andare con questo arco con questo arco con questo arco con questo arco con questo e con questo all'esterno del grafo perché sono tutti nodi che ancora non fanno parte del nostro grafo qui ci andiamo in 12 qui ci andiamo in 15 da una parte e in 15 dall'altra quindi sempre 15 quindi 12 15 oppure ci possiamo arrivare 9 più 2 11 più 4 sempre 15 sembra fatto apposta ci possiamo andare in 15 da F però abbiamo anche 9 più 2 11 più 10 21 più 14 25 quindi adesso è il momento in cui dobbiamo scegliere uno di questi tre archi scusate allora qua ci arriviamo in 15 con questo arco oppure con questo arco qui ci arriviamo in 12 oppure in 15 e gli altri sono più grandi quindi finalmente è il momento di scegliere questo arco e il nodo C quindi questo è il nostro nuovo arco e questo è il nostro nuovo nodo a questo punto dobbiamo considerare questo arco di nuovo questo questo e questo non più questo perché c'è anche D adesso questo e questo un po' di cose dobbiamo considerare ecco perché era difficile questo grafo abbiamo che per arrivare in D da C sono 12 più 7 19 per arrivare in I però già possiamo vederlo è 12 più 2 è 14 quindi gli altri pur sono lunghi come percorsi me lo ricordo è difficile trovare qualcosa meglio di questo 14 vediamo se ci possiamo arrivare da qui 8 più 7 fa 15 8 più 1 9 più 6 fa 15 mentre 4 più 8 12 più 2 fa 14 quindi finalmente abbiamo trovato un arco che minimizza la quantità quindi includiamo I includiamo questo arco a questo punto rimangono solamente questo arco qui questo e questo che dobbiamo valutare che sono gli archi che ci portano verso dei nodi nuovi da scoprire ovvero D e ed E che sono gli ultimi due nodi rimasti allora con questo arco qui arrivo in E in aiutatemi 9 più 2 11 più 10 21 in 10 arrivo con 4 più 8 12 più 7 19 che è minore di 21 quindi questo sembra essere l'arco candidato oppure ci posso arrivare con questa strada però ci arrivo con 9 più 2 11 più 14 24 25 quindi no quindi questo è il nostro nuovo arco che minimizza la quantità perché fa 19 questo è il nostro nuovo nodo adesso rimane soltanto questi due archi verso l'unico nodo ancora rimasto escluso sceglierò l'arco che minimizza la quantità quindi qui ci arrivo in abbiamo detto 19 più 9 farebbe 28 oppure ci posso arrivare da F come 9 più 2 11 più 9 più 2 11 più 10 21 21 è minore di 28 ecco questo quindi è l'arco che ho selezionato per arrivare ad E sarebbe stato molto più elegante colorando le frecce però questo è un esempio che abbiamo fatto al volo comunque qui sulle slide è riportato un esempio invece un esempio invece con le animazioni ecco comunque abbiamo fatto tre esempi scusi professore ma con l'esempio di prima per esempio sì esatto ok esatto sì questo potendo scegliere in questo caso dato che abbiamo le doppie frecce possiamo praticamente scegliere un nodo qualsiasi da cui partire sì sì ma in realtà allora da extra ve lo dice il richiedente da dove partire non è che noi decidiamo di partire perché ci piace partire da cioè è una richiesta del problema voglio le distanze a partire da potevamo partire da C ma è una richiesta del problema chiaramente in quel caso l'albero dei cammini minimi potrebbe cambiare non è detto che partendo da un nodo diverso l'albero sarà uguale potrebbe essere diverso l'albero non è garantito quindi sì è un dato del problema partire da quel nodo genererà un albero dei cammini minimi partire da un altro nodo genererà un altro albero dei cammini minimi ok grazie per la domanda ok cerchiamo di dare una complessità a questo algoritmo beh intanto l'algoritmo lo possiamo scrivere ormai l'algoritmo è praticamente il lemma perché partiamo ovviamente da distanze SS0 da tutti gli altri nodi più infinito inizializziamo l'albero dei cammini minimi inizialmente sformato solo dalla sorgente e diciamo finché l'albero dei cammini minimi non contiene tutti i nodi perché avete visto ormai ci si ferma quando abbiamo contenuto tutti i nodi e questo ci fa capire ancora una volta che purtroppo calcoleremo involontariamente le distanze verso tutti i nodi del grafo da una sorgente e questo è tutto qui l'algoritmo trova UV incidente su T con min DSU più UV cioè di tutti gli archi incidenti su quell'albero parziale seleziona l'arco che minimizza quella quantità l'hai trovato bene a questo punto se l'hai trovato aggiorna la distanza per arrivare al nodo V perché ti sto dicendo che questo arco è l'arco che fa parte del cammino minimo quindi questa di grande la devi aggiornare non è questo un rilassamento qualsiasi è proprio il rilassamento da fare quindi abbiamo trovato l'arco con la L maiuscola da rilassare e poi aggiorniamo l'albero per tener conto di questo nuovo arco quindi qual è la complessità c'è un ciclo esterno che è ODN c'è niente da fare per ogni nodo devi fare una cosa trova UV incidente su T con min DSU più V di UV caspita e quindi dobbiamo praticamente effettuare una ricerca tra tutti gli archi del grafo che incidono su tutti i nodi del nostro albero in quel momento perché ci interessano gli archi che ci consentono di andare al di fuori dell'albero e quindi ci interessano tutti gli archi che incidono su tutti i nodi nel nostro albero parziale e questi archi dobbiamo testarli uno a uno per verificare se minimizzano o no questa quantità e quindi purtroppo nel caso peggiore in cui questo grafo sia iperconnesso potrebbero essere anche tutti proprio tutti gli archi da considerare ogni volta tra l'altro un arco si può considerare più di una volta ci è capitato quando se vi ricordate questo arco qui noi lo consideravamo nella prima iterazione nella seconda nella terza nella quarta nella quinta nella sesta e alla fine l'abbiamo messo ma comunque lo abbiamo considerato quindi purtroppo è vero che questi archi quando noi li consideriamo non è che poi li buttiamo via forse li riconsidereremo nelle successive iterazioni quindi ragazzi ci sta poco la fa questo algoritmo è in questo momento odn per m quindi sembrerebbe di non aver guadagnato nulla rispetto a belmanford tanto vale usare belmanford in realtà vedremo che c'è una possibile semplificazione da fare intanto vorrei farvi notare che l'algoritmo che abbiamo appena discusso è un algoritmo che utilizza la programmazione greedy perché la utilizza perché si possono mappare pari pari ciascuna delle linee dell'algoritmo dello pseudocodice nelle linee del paradigma generale di un algoritmo greedy ovvero abbiamo un insieme di candidati che inizialmente è l'insieme vuoto il nostro insieme di candidati è l'insieme dei nodi dell'albero dei cammini minimi che inizialmente è formato solo dalla sorgente ok ora finché l'insieme dei candidati non è vuoto scusate questo è l'insieme della soluzione la soluzione inizialmente è vuota sì nel nostro caso parte da esse ma comunque è vuota mancano tutti gli altri finché i candidati ci sono candidati da esaminare vai avanti ecco qui finché ci sono nuovi nodi che sono esterni all'albero dei cammini minimi vai avanti seleziona il candidato più promettente ecco qui il lemma di Dijkstra ci dice che il candidato più promettente non è solo quello più promettente ma è l'unico vero candidato che quindi ci dà esattamente l'ottimo quindi questo seleziona nel caso di Dijkstra è il seleziona ottimo ok nel paradigma grade in generale potrebbe non essere ottimo infatti è questo che cambia tra Dijkstra e a stare sulle modificazioni cioè l'arco selezionato nel caso reale in cui non possiamo permetterci purtroppo questo esame cioè di esaminare tutti gli archi e minimizzare quello che minimizza la quantità il seleziona sarà un po' più empirico meno ottimo cioè non ottimo e quindi più veloce però a questo punto si elimina il candidato da da si elimina l'elemento selezionato dai candidati perché per noi è quello scelto quindi non lo considereremo più quell'arco quello stesso arco davvero quando noi lo consideriamo lo mettiamo dentro l'albero dei cammini minimi non verrà più considerato nelle future iterazioni quindi l'abbiamo davvero eliminato dai candidati e abbiamo aumentato la nostra soluzione aggiungendo questo arco nell'albero dei cammini minimi non abbiamo il controllo IF ottimo perché sappiamo già che questa cosa arriverà all'ottimo quindi questo non ci serve questo nemmeno ci serve infamissibile perché già sappiamo per costruzione dell'emma di Dijkstra che quella è una soluzione anzi è la soluzione ottima pertanto questo è un algoritmo che rispetta lo schema generale del paradigma greedy ora però questa è una cosa che affronteremo la prossima lezione quindi lunedì non adesso però vi do un 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 int che ci servirà per mettere sul tavolo gli strumenti necessari per risolvere Dijkstra allora noi siamo partiti oggi con Dijkstra a m per n e arriveremo a m più n logaritmo in base a 2 di n per arrivarci ci serve una struttura dati una struttura dati che si chiama coda con priorità quindi vedete come è strano siamo sui grafi e per risolvere il problema dei cammini minimi sui grafi che sono una struttura dati ci serve un'altra struttura dati che si chiama coda con priorità e la coda con priorità è una struttura dati che trova la sua migliore più efficiente implementazione con gli IP binari che sono un particolare caso di albero binario quindi sono alberi quindi guardate come è strana la vita siamo sui grafi dobbiamo risolvere il problema dei cammini minimi e per farlo ci sfruttiamo una struttura che si basa sugli alberi binari che cosa fa la coda con priorità lo vedremo la prossima volta lunedì e quindi faremo un passo indietro nelle nostre slide e quindi spiegheremo il motivo appunto che era rimasto in sospeso questo argomento e lo faremo prossima settimana la coda con priorità è come la coda della posta è un insieme di elementi con chiavi prese da un dominio ordinato quindi un po' come negli alberi in cui lo scopo di questa coda con priorità è trovare l'elemento di chiave minima o di chiave massima a seconda di cosa ci interessa se per noi la priorità è qualcosa che più elevato meglio è oppure più piccolo è meglio è quindi è una struttura dati che ha come metodo il più importante di tutti è find min o find max cioè l'elemento a massima o minima priorità a seconda della relazione che noi diamo alla priorità poi ci sono i soliti metodi di inserimento cancellazione e in più c'è la cancellazione dell'elemento minimo o massimo e c'è in crisis key di crisis key in crisis key e di crisis key sono i cambi di priorità è un po' come non sono state in coda alla posta e vi accorgete che insomma chiedete agli altri che stanno in fila scusate ma io ho il treno alle 10 mi potete cambiare priorità e loro dicono vabbè sì faccio due passi avanti oppure passi lei diventi lei il primo della fila questi sono i in crisis key e the crisis key sono dei cambi di priorità ovviamente in increase e the crisis a seconda che sia un cambio positivo o negativo della priorità vedremo lunedì che possiamo implementare le code con priorità con le strutture dati note fino a fondamenti di informatica quindi array non ordinati ordinati liste collegate non ordinate ordinate ma in realtà qualunque di quelle soluzioni non sarebbe una soluzione efficiente pertanto dovremmo utilizzare di nuovo gli alberi binari per implementare le code con priorità e questi alberi binari particolari si chiameranno IP questi alberi chiamati IP utilizzati nell'algoritmo di Dijkstra ci consentiranno finalmente di arrivare alla formulazione più efficiente dell'algoritmo quindi di Dijkstra ne esistono due versioni la versione naip cioè che non usa code con priorità è quella che abbiamo fatto oggi però è facile diciamo anche da capire da ricordare è più facile da eseguire e poi c'è quella con code di priorità che vedremo la prossima settimana quindi la lezione finisce qui la settimana prossima ci vedremo su questo termine la registrazione